Aaaaaaah! Benvenuti su The Garden of Bam Bam! Un nuovo gioco ispirato a Poppy Playtime che andiamo subito a iniziare e vediamo che cosa succede. In basso a destra vedo già il simpatico Bam Bam. Un genitore stava cercando il suo bambino sparito e per lui il tempo era una cosa delicata. Clicca sull'orologio per andare avanti col tempo. Ancora? Ah, perché qualcuno è stato perso dentro questo posto. C'è un mostro lì alla finestra, alla porta. Non so se è disegnato. E ora si è spenta tutta la luce. È arrivata la notte. Qualcuno si deve essere perso in un parco di divertimenti. Non so, questo Garden of Bam Bam. Sembra una specie di scuola materna, infatti. È un kindergarten. Vi ricordate? Kindergarten vuol dire tipo asilo, nido, no? Proprio per i bambini più piccoli. E qualcuno si è perso. Forse noi stiamo qui per cercare di ritrovare questo poverello. Eh? Non rovesciamo le cose, la monnezza. Apriamo qui. Dobbiamo essere veloci. Dobbiamo riportarlo indietro, questo povero bambino. Dove sei, piccolo? Ti sei perso? Non ti devi preoccupare neanche un po'. Ci pensa il tuo Lion a riportarti indietro. Cos'è che c'è qui? Allora, servono delle batterie per controllare questo drone. Abbiamo anche un disegno. Cara mamma, io mi sono nascosto in una stanza, ma ho da combattere i mostri. È ok se... Eh? Non ho capito. È l'unica possibilità che ho per fare in modo che io piaccia Claire. Ah, credo che sia una cotta, capito? Claire è lì in basso che viene mangolata da quel mostro. Ho capito. Poverina, cavolo. Bam Bam. Deve essere un pazzo, ragazzi, questo Bam Bam. E credo che sia lui, eh. Questo qua. Mangia i vegetali e le frutte per diventare forte come me. Ah. Si chiama Jumbo Josh. Non credo proprio. Secondo me si chiama Bam Bam. Forse Bam Bam è solo il posto, non lo so. Ah, ma ce n'è altri. Questo qui è Stinger Flynn. E dice... Avere molte braccia mi permette di aiutare molte persone. Ah, sei proprio un... Sfigato. Sì. Stinger Flynn, mamma mia. Cos'altro abbiamo? Ah, una batteria. Me ne servono due, però. Per controllare il nostro drone, ragazzi, certamente. Non so a cosa ci servirà. Magari per vedere in angoli angusti, no? Per trovare il bambino in zone nascoste. Sicuramente si è nascosto, poverino. E però... Diceva due batterie. Noi di batterie ne abbiamo trovata solo una, eh. E quando cerchi le cose ce le hai sempre davanti, eh. Eccola qui la batteria. Ok, adesso ce le abbiamo tutte e due. Ciò vuol dire che possiamo usare il nostro radio comando. Eh, sei già acceso. Madonna, è tipo il robot quelli che puliscono l'aspirapolvere, no? Il Roomba. Vai, Roombami. Roomba. Dove vai, però? Vai per conto tuo? Ah, ah, lo devo usare per accendere le cose dove io non arrivo, eh. Sono un genio, te lo dico io. Ah, ok, allora. Possiamo anche portarcelo appresso per avvicinarcelo a noi quando siamo lontani da lui. Dobbiamo capire dove usarlo, però, eh. Perché mi pare che non è lì dove pensavo io. Non è il posto giusto. Perché, vedi, io vedo questo bottone, no? Lui ci va contro, effettivamente. Però non mi pare che abbia aperto nulla. Quindi forse è questo qui. Ah, ma allora era giusto! Ma chi c'è là in fondo nel corridoio? Vedo un muso curioso che mi viene a fare visita. Salve. Chi, tu? Mmm, non mi piace quando fanno così. Mmm, non mi piace. Perché si è ritirato se non avevi niente da nascondere? Perché non ne sei rimasto a salutare? E poi tu non ci sei sui muri, chi sei? E perché non posso entrare... Ah, c'è un vetro, ok. Eh, Bambam! Ah, Bambam è quello lì! È il capo di tutti! Il boss! Voglio vedere quello che dice Bambam! Deve dire qua... Oh, che paura! Era una seria, non caghiamoci addosso! Bambam dice... Condividere è apprezzare. Il tuo pancreas è il mio. Oh mio Dio! Ma questa non è una frase accogliente! Bambam! Sei un fuori di testa! Vuoi rubarci i nostri organi per condividere? Come dici tu? Sentite, facciamo una cosa perché questi giochi mi stanno prendendo particolarmente. Cosa ne dite se lunedì sera... Quindi vi dovete mettere una sveglia alle ore 19 in live sul sito Viola. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento. Facciamo tre giochi a caso di questo genere qui come questo. Eh? Vi piacerebbe come idea? Ci vediamo lunedì, questo lunedì, alle 19 sul sito Viola. Mi raccomando. Adesso però andiamo avanti. Mettetevi una sveglia così non ve lo dimenticate, eh? Qui cosa abbiamo bisogno? Allora, qui abbiamo bisogno di qualcosa per aprire questo angolo. E questo è l'angolo dei bambini monelli. Quelli che si mettono qui, vedete, i bambini esclusi. Quelli che io escludo dal video. Vai nell'angolo dei bambini esclusi. Nella sedia dei bambini esclusi. Basta ste sedie però, queste sono terribili. Andrebbero escluse le sedie perché sono troppo disturbanti. La fine è vicina? Vabbè, mi sa che qualcuno si è spaventato. Deve essere successo qualcosa, eh? C'è anche Capitan Fiddles che dice Uga Buga Buga Uga. Vabbè, questo qui è il più stupido del gruppo, si è capito. Qui serve un'altra keycard di un altro colore. C'era un angolino aperto della stanza dei monelli. Allora mi sa che possiamo fare qualcosa. Drone! Vieni qui! Drone! Premi lì! Drone! A parte che ci arrivo anche io volendo. Cioè, non è che c'è bisogno... Drone! Ma sei un dragone! Altro che un drone! Vai, vai! Spaccali! Premi! Il pulsantone! Bravo! C'è su qualcosa? Boh! Ripremiamo di nuovo, non si sa mai. Magari la prima volta non funziona. Premi il pulsantone! Eh... Eh, insomma, eh. Non so se magari lo devo appremere più forte da più lontano. Ma non mi pare, eh. Mi sa che non abbiamo azzeccato nemmeno questa volta. Diamo un'occhiata in giro. Magari abbiamo aperto qualcosa, eh. No, però, qui è tutto chiuso. Qui è come era prima. Qui è sempre buio, non vedo nulla. Cioè, le luci erano direttamente a fianco. Ma voi ci credete? Vabbè. Lasciamo per... No, è meglio non parlare. Questo rimarrà un segreto tra me e voi. Le luci non c'erano. Le luci non c'erano, si sa perché non c'erano. Ah, questo qui è l'area giochi, eh. Una simulazione della natura! Con tutti gli alberelli e le... Cacche giganti! Ah! E le altalene per divertirsi! Mmm, molto bello! Ah, questa cacche è diventata un albero, pazzesco! Ah! Eccoti qui! Uccello bello! Ti chiamerò così io da oggi in poi. Uccello bello. Ah, questo qui è il pozzo delle palle. Ed è chiuso. Avete presente quello con tutte le palline, no? Che si nuota, bello. Ah, ti chiami Opila Bird. No, Uccello bello sarà il tuo nome, my friend. Lui ha una missione, però. Ed è incredibilmente affamato. Portagli sei bambini. No, sto scherzando. Sei uova per prendere il tuo premio. Ah, Opila Bird. Ecco un uovo. Mmm! Che bontà suprema, Opila Bird! Sono contento che ti piaccia così tanto! Andiamo a cercare un altro. Eccolo qui, Opila Bird. Un secondo uovo per chi? Per il mio uccello bello. Ecco qui. Te l'ho dato? Sì. Uh, che bello, uccello bello. Allora, procediamo con ordine. Perché non voglio poi che rimaniamo con un uovo che manca. E non lo riusciamo a trovare, eh. Lì dentro non ci possiamo entrare perché siamo grossi. Quindi non ci andiamo. Mancano sei uova. Non sarà facile, eh, trovarle tutte sei. Ma non gli potevano piacere. Cioè, non voglio dei bambini. Perché non è bello. Però erano più grossi. Cioè, si vedevano prima, no? E poi, tanto alla fin fine, lo sappiamo che andrà a finire. Che qualcuno si mangia i bambini qui in mezzo, eh. Ma è ovvio. Se ci pensate, no? Cioè, c'è questo mostro, un bambino sparito. Cosa vuoi che sia successo? Questo è stato mangiato, te lo dico io. Poi questo, guarda come si inghiotte le uova. Non mi sembra uno bravo, questo, eh. Uno che mangia le uova così. Ragazzi miei, senza giudicare. Se avete un papà, magari, che mangia le uova in questo modo. Non è che lo voglio giudicare, però. Cioè, se te le inghiottisci per intero così. C'è qualcosa che non quadra con te, eh. Ecco, non voglio essere io a giudicarti. Però è possibile che ci sia qualcosa di sbagliato con te. Non trovo altre uova. Mi pare di avergliene portato tipo quattro. Però magari, sapete, perché c'è un pulsante. Abbiamo visto che alcuni di questi pulsanti si possono premere. Proviamo a, insomma, ad aprire col drone, no? Successo qualcosa? Mi pare proprio di no. Abbiamo ottenuto un uovo in più? Proviamo di nuovo. Magari, se lo premo di nuovo. Nah, secondo me questo pulsante non fa nulla. È spento. Quindi mancano lo stesso le altre uova per il nostro uccello. Qua sopra non ne vedo. Sopra gli alberi, boh. Potrebbe essere difficile, eh. Qua dietro non ce n'è. Oppi la verde, non è che ne tieni uno nascosto tu per non farmi finire? Eh, mi vuoi tenere con te fino alla fine dei tempi. La barca, magari l'abbiamo già vista dietro la barca. Qui c'era un interruttore nascosto. Mi sa che ho attivato il pulsante di prima. E adesso sì che il drone lo può premere. Vediamo un po' se succede qualcosa. Vai, zio. Vai, fratello. A quattro ali. Ok, ho sentito un bibibim. Ah, un nuovo segreto. E l'ultimo è qui. Non li posso prendere tutti insieme. Però in teoria adesso ce li dovremmo avere tutti. Tieni. Buono, eh. Sempre più buono. Opila. Opila. Opilu. Opilu. Ed ecco l'ultimo. Non l'hai preso. Opila. Uccello bello. Eh, non ti piace allora? Sei saziato? Eh, ti sei un po' saziato. È anche comprensibile. Te ne sei scionfato una marea. Però io ti do anche l'ultimo. Che è qui. Ah, ma non mi dire che non lo posso... No. L'ultimo uovo? Mi sa che non lo posso prendere. Perché è tipo incastrato. Cioè, non so come abbia senso questa cosa. Ma mi sembra che sia incastrato. Eh, lo so che devo trovare le altre uova. Infatti è quello che sto facendo. E il problema è che non... Non lo posso... Aspetta, eh. Oh, mamma mia. Ma bisogna essere... Ma bisogna essere dei chirurgici così, eh. Tu ingozzati anche l'ultimo uovo. Fai quello che devi fare. Vai. Come un drago. Ti ho dato tutte le uova. Uh, che cos'è? Ah, prendi il tuo premio dalla bocca di Opila. Una chiave gialla. Allora, qui non possiamo entrare. Ci serve un oggetto distruttivo per rimuovere quelle assi di legno. Quindi un martello, un piede di porco, qualcosa. Invece possiamo aprire con la chiave che abbiamo appena trovato un'altra porta. Non questa, ovviamente. Neanche questa. Ok, possiamo aprire questa qui, forse. Sì. Aha. E adesso, utilizzando il nostro drone pazzo, possiamo attivare quel bottone che si è acceso adesso. Quindi è funzionante. E vediamo che cosa ci rivela questo. Ok. Aha. Una porta. E guardate un po'. Un altro foglio. Distraction at 1. Distraction at... Non so cosa vuol dire. Distrazione vuol dire. Non è distruzione. Distrazione a 1. Che vuol dire? Distrazione. Non è che magari è tipo un livello di attivazione dei mostri, no? Uè, cos'è stato? Mi son girato di scatto. Cos'è stato? Vabbè. Io faccio finta che non sia successo niente, eh. Per il momento i mostri dormono, quindi siamo tranquilli. Togliamo le assi di legno e passiamo. Anche qui c'è un pochino di buio e là in fondo vedo dei pulsanti strani che non mi piacciono. Ok? Non mi piacciono. Ah, qui c'è un pulsante di riavvio. C'è un altro Opila Bird che dice Ridere è la miglior medicina per farti certo che sorridi. Che bella frase. Opila Bird, devi essere un grande filosofo tu. Però come faccio io qui? Allora, questo è un emergency stop e non mi pare che possiamo fare nulla. Però attenzione perché qui c'è qualcosa. Ok, forse saranno delle luci. Vedo delle impronte di Opila Bird lì sulla parete. Non mi piacciono quelle impronte. Però, aspetta. Perché qui c'è una specie di funivia. Oddio, attenzione, eh. Ok, credo che questa dovrebbe funzionare per portarmi dall'altra parte. O sbaglio. Se parte, eh, ovviamente. Ok, c'era il pulsante per farla partire. Perfetto. Mi aspetto che prima o poi qualcuno di questi mostri mi parta addosso, eh. Mi jumpi. Perché per forza, cioè, il gioco quello vuole. Vuole farci spaventare. Quindi, prima o poi dovrebbero arrivare. Oh, no, ho sbagliato. Eh, non so se ce la faccio qui, eh. A saltare giù. Oh, sì, che ce la faccio. Allora, possiamo... Questo è stato? Ok, si ferma. Possiamo richiamare indietro la seggiovia, se vogliamo. Allora, attenzione, aspetta, eh. Perché qui è complicata, eh. Ci chiede. Qui c'è un'altra cosa, non so cosa sia. Sto gioco è complicato un bel po', eh. Non è semplice. Chiede, qual era il mio colore? Eh, però non ci sono i colori. Ah, ok, dobbiamo cambiare. Ah, ok, è facile, è facile. Allora, è semplicissimo. Dunque, dobbiamo mettere il colore sotto ognuno di loro. Io me li ricordo? Sì. Sì. Lui era rosso. Lui era verde, chiaramente. Lo abbiamo visto, no, più volte. È un po' il personaggio principale, sembrerebbe. Non si sa come si chiama, però, non so. O almeno io non me lo ricordo. Lui era rosa, l'uccello bello. Lui era blu, se non mi ricordo male, giusto? Un bel blu. Per questo qui, che si chiamava Ongabonga, mi pare di ricordare. Lui? Eh. Lui non me lo ricordo. Poteva essere rosa. E quindi ciò lascerebbe lui a un altro colore, perché saranno tutti diversi. Arancione? Allora, la medusa io mi ricordo che era rosa. Bianca non può essere. Dai, proviamo. E però, rosa, c'è anche uccello bello. Due potrebbero essere dello stesso colore. Tutto è possibile. Proviamo la medusa arancione. E questo qua proviamo... Boh, a girare tipo tutti i colori. Dovrebbe succedere qualcosa se ci azzechiamo, no? Magari è bianco. Uh. Non so di che colore fosse, però abbiamo fatto bene. Prendiamo la nostra keycard, questa volta arancione. Adesso, non so cos'è quel... C'è l'uccello? Perché c'è l'uccello? Non mi piace che ci sia l'uccello che sta venendo da me. E non posso arrivare lì al pulsante io. Perché mi fissa? Non mi piace per nulla che l'uccello mi fissi. E secondo me l'uccello scende. Adesso. E la cosa mi piace ancora di meno che l'uccello scende. E... Fratello! Fratello! Premili! Premili! Ok, si è fermato, però. Oh, ti giuro, ti... Fermali! Oh, ti devi sbrigare! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, l'uccello mi voleva uccellare! Eh, sta venendo pure lui! Oh! Pezzo di... No! Sono caduto! Maledizione! Perché mi ha fatto cagare addosso! Eh, non mi pigli! Non mi pigli, fratello! Non mi pigli! Zompo come un pazzo io! Come un pazzo, aspetta! Toh! Aaaaaaah! Oh, oh! Non fermare prima! Oh, oh! Non mi avrai! Non mi avrai! Oh, oh, oh! Ne godo! Suka! Pila, pila! Ah, ti ho dato una lezione, eh! Non se l'aspettava lui! Era lì convinto di potermi prendere, ma no! Ma neanche per idea, invece! Allora, questa non possiamo ancora aprirla, però una keycard la mi ha presa! E apre questa porta, ok! Molto bene! Molto bene! Dobbiamo trovare il piccolo Tommy! Tommy, con una M sola, poverino! Che gli hanno rubato anche la M, pensate! Questo è un boarding pass, un biglietto aereo, di Utman Adam, della classe E! Forse è lui il nostro bambino, non lo sappiamo! Doveva imbarcarsi nel gate B13 alle 3.23! Ricordiamoci, queste informazioni potrebbero essere utili! Qui c'è un altro bottone spento! Mio Dio, che casino! Allora, forse qui... No, questo è spento pure! E che cavolo ci sono venuto a fare io qui? Se è tutto spento... E' spento il bottone! E' spento questa mascherina qui! Così? No, questa ovviamente era per entrare, quindi non ci facciamo niente! Eeeh... Aspetta però, eh! Perché qualcosa si deve essere per forza acceso! Perché qui non abbiamo altro da fare! A meno che non sia quest'altra zona qui! Perché potrebbe essere, eh! Perché qui non ci si poteva andare prima! Vediamo se funziona adesso farla aprire col drone! Altrimenti, lì mi pare che era già aperto! Sì! E no, devi andare dritto però, fratello mio! Fratello quadrupede! Vai! Accendi bene! Bravo! E no, mi sa che... Mi sa che lì è l'ingresso, tipo, comunque non si può aprire, eh! E no! Quindi, se non è lì, qui non c'è nulla perché abbiamo visto tutte le zone possibili e immaginabili! Qui nemmeno perché abbiamo aperto tutto anche lì! Questa è ancora chiusa e non ci possiamo andare! L'unica stanza che rimane è questa! Ma qui il bottone... Il bottone è spento! O io ci posso... Io ci provo, eh! Ma... Di solito quando sono così abbiamo visto che non funziona! Eh no, infatti non succede niente! Ah! Ma guarda dove l'hanno nascosto! Sotto la scrivania! Ok, adesso qualcosa deve succedere per forza! Credo! Ma questo mi sembra spento lo stesso, eh! Qua non c'è nulla che è cambiato! Questo però sì! Ok! Aha! Uno strano piano segreto, eh! Aha! Questo kindergarten nasconde qualcosa di misterioso! Vuol dire che ci rapiscono i bambini! E poi li danno in posto a questi mostri per tenerli buoni! È una maledizione! Però io non posso... Non posso andare! O forse sì? Ah! Dovevo aspettare l'ascensore! Giustamente! Pensate quanto è alto! Il pozzo! Eh beh! Guarda, guarda! Tutto sgangherato, eh! Questo è quell'uccello di prima che... Si sgrava completamente dentro queste cose! Oh! Speriamo che non doverà avere a che fare con i suoi gemelli malvagi lì! Che non mi ricordo mai come si chiamano! Bunga Bunga! O Bunga Zunga! E quell'altro bruttissimo verde! Che non mi ricordo neanche lui come si chiama però! Oh no! Stiamo scendendo nel buio! Abbiamo un solo faro! Se mi spunta davanti uno di... Oh! Taccadell'ascensore! È fermato? Ehi! Che è? Chi ha ruttato? Chi è stato? Oh! Zio! Zio! Ehi! Ho visto! C'è Zambarone! No! Quello lì si allunga! Oh! Quanto è brutto! Ah! Previ! Fai cose! Non mi dire che sono morto eh! Non mi dire che sono morto! Non mi dire che sono morto! Non ho potuto vivere! Come vivevo? Magari stiamo bene! Magari era tipo... Un... 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 Come si... Un abbraccio affettuoso no? E qualcosa è successo però! È finito! Così! No! No! Wishlist del sequel! Quindi il sequel sarà un sequel ma non c'è ancora! È il bambino! Tommy! Cosa gli è successo? Non possiamo saperne nulla finché non esce il sequel! E poi quest'altro losco figuro qui con le corna rosse! Chi è? Non l'abbiamo potuto vedere! E questa musica triste che cosa mi rappresenta? È morto il piccolo Tommy? Forse? Probabilmente! A giudicare da questa melodia triste, questa sinfonia melanconica! Ma fatemi sapere! Volete vedere il secondo capitolo del Garden of Ban Ban? Lo faremo sicuramente quando uscirà! Per oggi però ci dobbiamo fermare! Quindi vi ricordo che giocheremo altri giochi simili! No! Non questa sera ma lunedì sera! Alle 19! In live sul sito Viola! Link in descrizione nel primo commento! E per oggi Lion Out!